Custodisci la parola di Dio. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Colliamo oggi il Vangelo secondo Luca, capitolo 8, dal versetto 4 al 15. In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse con una parabola. Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò cento volte tanto. Detto questo, esclamò, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola. Ed egli disse, a voi hai dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano. Il significato della parabola è questo, il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici, credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato strada facendo, si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, lo custodiscono e producono frutto con perseveranza. Amen. Cari amici, siamo nella parabola più bella, potremmo dire la regina delle parabole, quella che ci spiega l'importanza e il significato della forza della parola di Dio che ha nella nostra vita. Gesù descrive questo accogliere ogni sua parola, ogni suo verbo nella nostra vita come un seme che cade nel nostro terreno, che entra lì dove noi viviamo, dove noi preghiamo, dove noi stiamo per portare grande frutto. e fa questa suddivisione, quattro tipi di terreno, un terreno che è la strada, un terreno che è la pietra, un terreno dove ci sono i rovi e un terreno buono, fertile, che dà frutto, che permette al seme di produrre frutto. Gesù pensa a questo paragone perché sa che gli ascoltatori capivano molto bene questo genere letterario, un genere che si rifà alla natura, al loro lavoro quotidiano. Per lo più, oltre che pescatori a Cafarnao, erano agricoltori al tempo di Gesù. Ecco perché capiscono molto bene. E in ogni terreno dove cade la parola, cioè il seme, da parte del seminatore, c'è una caratteristica molto specifica. Ciò che noi possiamo vedere e assimilare, affinché questa parabola possa oggi aiutarci nel nostro cammino di fede, è il fatto che la strada, il terreno con la pietra, il terreno sui rovi, sono al tempo stesso, come il terreno buono, dei terreni dove viene ascoltata la parola di Dio, ovvero corrisponde a delle persone, a degli ascoltatori dove tutti ascoltano. Non è che il terreno sulla strada si riferisce ad una persona che non ha ascoltato la parola, per quello è sterile. No, tutti e quattro i tipi di terreno hanno ascoltato questa parola. Ma c'è solo una differenza nell'ascolto che, come dice l'Evangelista Luca, in questi versetti, quello sul terreno buono, riguarda coloro che hanno ascoltato con cuore integro e buono. Perché noi possiamo ascoltare ogni giorno, anche dal mattino alla sera, la parola. Ma se il mio cuore non è integro e non è buono, ovvero non è disponibile ad essere trasformato, cambiato, ma è duro, insensibile, è freddo, è gelido, vedremo che l'ascolto non porta nessun frutto. Vedete quanto è importante essere preparati, essere pronti a ricevere il seme. Quindi non solo per dire vado, c'è una preghiera, c'è una messa, c'è un incontro, c'è un'altra preghiera e dico bene, sto ascoltando, dico ah, sto come prima, non è successo niente, non è cambiato nulla nella mia vita. Vedete la differenza? Che il terreno buono si riferisce a quelle persone che vengono per ascoltare, perché hanno fame e sete della parola di Dio e credono che è vita. Infatti i primi tre tipi di terreno, sulla strada, sulle pietre e sui rovi, in realtà si lasciano poi scoraggiare, distrarre, sopraffare da preoccupazioni, da piaceri, da tante idee e pensieri. Tutti non custodiscono la parola che è entrata dentro di loro e infatti tutti non perseverano, tutti falliscono dopo l'ascolto e quindi perdono la fede, non credono più, possono accusare Dio, accusare gli altri, accusare la Chiesa, ma in realtà il problema è dentro di loro, non hanno avuto un cuore buono e integro e non hanno voluto custodire la parola, perché sappiamo molto bene, e chi legge ogni giorno la Bibbia e il Vangelo lo sa, che a volte sono belle le pagine del Vangelo e della parola, ma altre volte sono dure, ci impegnano, ci richiedono uno sforzo, grazie allo Spirito Santo e a volte non ci va e come dice Gesù sono delle strade strette, non sono larghe, spaziose, comode, belle, piacevoli, a volte quando Dio ci chiede di perdonare, di amare, di fare il primo passo, di porgere l'altra guancia, ecco il terreno sulla strada, sulle pietre, sui rovi, non mi va tanto, è più facile mandarli a quel paese, le persone, vendicarci, sgridarli, rimproverarli, criticarli, il terreno buono è quel terreno come quello di Maria, che ha accolto la parola dell'angelo, la parola di Dio e ha detto eccomi, eccomi, sono disponibile, è un terreno fertile, ma soprattutto che ha deciso di custodire la parola, se noi la parola la ascoltiamo e dieci minuti dopo andiamo al lavoro l'abbiamo già dimenticata e non la custodiamo con tutte le forze, con tutta l'energia, carissimi amici non produrremo nessun frutto, potremo ascoltare l'Evangelo tutta la vita, pregarlo, leggerlo, ma non ci cambierà la vita e diremo non serve a niente, ma non è così, perché Gesù ha promesso che coloro che ascoltano questa parola, questo Vangelo ogni giorno con cuore integro, buono, lo custodiscono, perseverano, ecco che produrranno cento volte tanto. Anche questa espressione è fortissima. In Israele a quel tempo dire che un seme produce cento volte tanto è una cosa che non esiste, che non ha senso, non ha valore, è troppo, è una quantità smisurata. Ebbene tutti coloro che si comportano così con la parola, con questa apertura, e cercano di custodirla, vivranno i frutti della parola. Amen? È importante, lasciamoci guidare da questa luce, da questa lampada, custodiamola con tutte le forze. Quando ci saranno i problemi, le difficoltà, le malattie, non lasciamoci scoraggiare, sopraffare dalle preoccupazioni, dai piaceri, perché Lui, il Signore Gesù, ciò che ha promesso lo manterrà, produrrai cento volte tanto ciò che è stato seminato nel tuo cuore. Custodisci questa parola. Amen? Spirito Santo, noi vogliamo invocarti oggi? Ti invochiamo nella nostra vita perché Tu possa donarci il dono della perseveranza, il dono della fortezza, il dono di custodire con tutte le forze la parola che abbiamo accolto oggi. Spirito Santo, Tu sai che siamo fragili, deboli, e da soli non riusciamo ad essere dei bravi e buoni custodi di questo Vangelo, ma Tu, forza dall'alto, intervieni nei nostri cuori, nella nostra mente, perché noi godiamo dei frutti promessi da Dio e dal Vangelo di Gesù Cristo. A Te, Signore, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, ecco lo slogan di oggi, custodisci la parola di Dio con tutte le tue forze e vivrai e vedrai cento volte tanto i frutti che Dio porterà nella tua vita, grazie ai tuoi sforzi di custodire questa parola. Amen. E pensate che proprio nel mese di ottobre e novembre, quindi domenica 8 ottobre a Torino e 5 novembre a Strona, faremo un corso chiamato Preghiera Personale, dove vogliamo insegnare come custodire la parola giorno dopo giorno e avere e ricevere tutti questi frutti meravigliosi. Molti ci hanno chiesto di farlo anche online. Ecco, stiamo preparando la possibilità di ricevere questi insegnamenti anche online. Quindi attendete e vi daremo delle buone notizie. Grazie per avermi accolto. Buona giornata. A domani. Ciao. Parlami, Signore, perché il tuo servo ascolta. Parlami, Signore, ti ascolto. Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta. Parlami, Signore.